Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, caffè solubile in polvere, cubetti di latte intero congelato. Andiamo in via alla ricetta. Inseriamo all'interno del boccale il caffè solubile e lo zucchero. Andiamo a polverizzare. 10 secondi, velocità 10. Inseriamo adesso i cubetti di latte intero congelato. Facciamo partire il bimbi un minuto a velocità 6 spatolando. La crema di caffè è pronta. Adesso andremo a metterla nei bicchierini. Crema di caffè, grazie e alla prossima ricetta.